Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale con la politica. Resta ancora caldo il clima all'interno della maggioranza di Vito Leccese. Il sindaco ha revocato il mandato all'assessore Raffaele Diomede sulla cui nomina si era creata una spaccatura all'interno del Movimento 5 Stelle e i dettagli nel servizio. La giunta leccese perde un altro pezzo. La notizia era nell'aria già da giorni. Il neosindaco ha revocato l'incarico a Raffaele Diomede, assessore alla legalità in quota Movimento 5 Stelle, sulla cui nomina erano scopiate le polemiche in casa pentastellata. A sollevarle erano stati i due consiglieri comunali eletti, Antonello Dele Fontane e Italo Carelli, che avevano parlato esplicitamente di spaccatura determinata da una mancata condivisione dei vertici del partito con la base e con gli stessi consiglieri. Dopo che Diomede aveva rimesso il mandato nelle mani del Movimento, il primo cittadino ha scelto di revocare il mandato per mettere fine alle polemiche, lasciando però vacante l'ultimo posto in giunta. Da oggi lavoreremo con nove assessori, ha spiegato leccese, come stiamo facendo già in questi giorni e come faremo fino a quando sarà necessario. Da questo momento l'unico nostro obiettivo deve essere quello di lavorare per la città. Per questo motivo lunedì, accompagnato dagli assessori della giunta comunale, sarò a Sampio per incontrare la Presidente, i consiglieri di municipio e alcuni referenti di attività e presidi nel quartiere. Una nota cui ha fatto seguito quella del coordinatore regionale del Movimento, Leonardo Donno. Le gravi dichiarazioni rese dal consigliere delle Fontane durante il primo consiglio comunale a Bari hanno sorpreso tutti, ha spiegato. Accettiamo la decisione del nostro Raffaele Diomede di fare un passo di lato. Lavoreremo nei prossimi giorni ad una possibile soluzione interna che ripari il Movimento 5 Stelle dall'imbarazzo al quale è stato esposto. Lo stesso Diomede ha manifestato tutta l'amarezza per la situazione che si è venuta a creare. In tema di lotta alla mafia e di legalità, più che di incarichi politici, la città di Bari ha bisogno di donne e di uomini di buona volontà, con una comprovata esperienza e storia personale, ha scritto sul suo profilo Facebook. Se la frattura nel Movimento sembra tutt'altro che ricomposta, per il sindaco Leccese ci sarà da lavorare per rinsaldare i rapporti interni nella maggioranza, a partire dal prossimo consiglio comunale, quando bisognerà individuare il nome del presidente dell'Assemblea. Il viceministro alla giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha visitato questa mattina il carcere di Bari, un appuntamento programmato all'indomani della rivolta avvenuta pochi giorni fa, il servizio di Roberto Maggi. La sua visita era annunciata da giorni nell'ambito di un calendario di incontri programmati all'indomani dell'aggressione denunciata dal SAP. Il viceministro Francesco Paolo Sisto ha incontrato una delegazione di detenuti, dirigenti, personale e organizzazioni sindacali del carcere di Bari, per comprendere a fondo le criticità della struttura e fare chiarezza sugli episodi avvenuti lo scorso 17 agosto. Quattro detenuti, lo ricordiamo, avevano aggredito, secondo la ricostruzione fornita dal personale della struttura, un agente di polizia penitenziaria e sequestrato un'infermiera. A guidare la rivolta sarebbe stato un carcerato con problemi psichiatrici che, in base ai protocolli, avrebbe dovuto trovarsi in una REMS, una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza e non nella casa circondariale. Sulla vicenda, ad ogni modo, è stata aperta un'inchiesta della Procura, ma dalle prime indagini non sembrerebbero esserci responsabilità né da parte della dirigenza né del personale. Inoltre, non si tratterebbe di una questione legata al sovraffollamento, pure esistente, se consideriamo che a fronte di una capienza di 294 posti, il carcere di Bari ospita ben 400 detenuti, di cui 235 ancora senza sentenza definitiva e 3 internati. Il viceministro Sisto, ad ogni modo, ha ribadito la volontà del Governo di intervenire anche su questi aspetti. I problemi vanno divisi. Non si può dire perché accade un episodio grave, ma non afferente a problemi di sovraffollamento di struttura, che questo, diciamo, legittimi delle altre valutazioni, come posso dire, di pessimismo totale. C'è una carenza di personale, ci sono due concorsi, uno in partenza, penso che 25-30 agenti di polizia penitenziaria potranno arrivare a Bari. C'è un nuovo concorso che parte a settembre, quindi diciamo che dentro il 2025 sarebbe in condizione di offrire un contributo importante ai problemi della penuria di personale di polizia penitenziaria. Il detenuto con problemi psichiatrici non deve stare in carcere, deve stare in strutture, che non sono più i vecchi ospedali psichiatrici e giudiziari. Noi ci siamo posti il problema con questo decreto carceri, vedremo di incrementare questo livello di attenzione, ma qui la sinergia è stata regione assolutamente fondamentale. Ho l'impressione che in questa regione ci sia molto da fare dal punto di vista delle sinergie. Sono più le divergenze che le possibilità di andare sulla stessa linea. E adesso spazio agli ultimi aggiornamenti dal nostro sito www.telebari.it con il nostro Tiziano Tridente. Buonasera Tiziano. Sì eccoci Maricla, iniziamo purtroppo dal drammatico incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi. Fratturi è casa massima dove un trattore guidato da un uomo di 32 anni per cause ancora in corso di accertamento è finito contro un muoretto a secco e si è ribaltato sulla careggiata. Il 32enne è schiacciato dal mezzo pesante, morto sul colpo, sul posto oltre ai sanitari del 118 che hanno potuto solo constatarne il decesso. Sono arrivati anche i vigili del fuoco, i carabinieri. Toccherà loro ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Ci spostiamo a Monopoli dove un uomo poco prima delle 17 è precipitato con il parapendio. Immediate sono scattate le ricerche portate avanti anche dai carabinieri e dai vigili del fuoco con il supporto di un elicottero. L'uomo è stato così trovato, stabilizzato e portato d'urgenza in ospedale, ha riportato ferite molto gravi ed inevitabilmente gravi, dunque sarebbero le sue condizioni. Ancora cronaca in chiusura, due poliziotti in servizio nel commissariato di polizia di Corato sono accusati di omissione di atti d'ufficio perché non sarebbero stati tempestivi nel raccogliere le denunce di una donna vittima di atti persecutori da parte dell'ex marito. La donna più di una volta nell'agosto dell'anno scorso avrebbe chiesto di mettere a verbale le sue parole contro l'ex, che destinatario di un divieto di avvicinamento avrebbe violato il provvedimento. In ben due occasioni gli agenti le avrebbero riferito di tornare nei giorni successivi. In una terza occasione poi alla donna non sarebbe stato consentito di integrare la denuncia. Da qui la decisione della Procura di fare chiarezza su quanto accaduto. Grazie Tiziano, noi cambiamo argomento. Trasporti, ENAC approva il contratto di programma 2024-2027 di aeroporti di Puglia, oltre 218 milioni in arrivo, il 30% andrà all'aeroporto di Bari. Sono in arrivo oltre 218 milioni di euro che permetteranno agli aeroporti pugliesi di migliorare le proprie performance tra il 2024 e il 2027, grazie all'approvazione da parte di ENAC del contratto di programma di aeroporti di Puglia. Il 30% dei fondi andranno all'aeroporto di Bari, il 25% a quello di Brindisi, il 23% a Taranto Grottaglie e il 22% a Foggia. Gli investimenti serviranno per avviare una serie di interventi finalizzati al miglioramento delle capacità aeroportuali degli scali, dei servizi destinati ai passeggeri, all'innalzamento del livello di sicurezza con uno sguardo attento alla tutela ambientale. Esprime soddisfazione in una nota il presidente di aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. Si tratta di un traguardo che rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni da tutta la struttura di aeroporti di Puglia. L'approvazione del contratto, prosegue Vasile, ci permette di potenziare ulteriormente i servizi offerti ai passeggeri, migliorando l'efficienza operativa e rafforzando la competitività degli scali pugliesi. L'obiettivo dell'ENAC, spiega invece il presidente Pierluigi Di Palma, è quello di consentire attraverso il proprio ruolo di vigilanza e controllo che la rete aeroportuale nazionale possa competere a livello internazionale. L'Italia può e deve farlo. In questo ambito, la gestione degli scali pugliesi rappresenta un esempio di lungimiranza per gli investimenti fatti nel corso degli anni a favore della transizione ecologica, di quella digitale e della mobilità aerea avanzata. Su 100 ispezioni effettuate dall'inizio dell'anno sono state registrate 295 violazioni e quanto emerso dalle attività intensificate negli ultimi giorni della Polizia Locale a contrasto dell'abusivismo delle strutture extra ricettive come B&B e case vacanza. Tra le procedure di revoca del codice identificativo di struttura nel mese di luglio a causa dell'assenza di agibilità. In un caso la struttura presentava abusi edilizi, mentre per gli altri due la destinazione era uso commerciale e non residenziale. In questo periodo stiamo concentrando molte attività della Polizia Locale al controllo delle qualità e delle condizioni di accoglienza delle strutture extra ricettive, ha dichiarato l'assessore alla Polizia Locale Carla Palone un percorso necessario nell'interesse dei turisti che scelgono Bari come tappa per le loro vacanze e di quanti hanno intrapreso un'attività nel pieno rispetto della legge. Sono decine le auto vandalizzate in queste ultime settimane tra Corso Italia e Piazza Umberto segnalate dai residenti vittime di questa situazione. Abbiamo fatto il punto anche alla luce del maxi provvedimento antidegrado emanato dall'amministrazione leccese. Ce ne parla Giuliana Vendola. Non ci sentiamo sicuri, la notte qui accade di tutto e al nostro risveglio ritroviamo spesso le nostre auto distrutte e tantissimi motorini scaraventati sull'asfalto attivandalici compiuti per lo più da un senzatetto e la denuncia di un esercente di Corso Italia che si aggiunge alle voci di altri residenti in Piazza Umberto, Piazza Cesare Battisti e Piazza Moro ormai stanchi della spiacevole situazione. Negli ultimi giorni sarebbero decine le auto vandalizzate in queste zone quasi tutte ritrovate con il vetro posteriore sfondato fatti testimoniati dalle foto comparse sui social. Una ragazza barese impiegata come capotreno nelle ferrovie ha raccontato che nella serata del 18 agosto intorno alle 23.45 dopo aver appena terminato il suo turno di lavoro ha rivenuto la sua Opel Car parcheggiata nei pressi del Civico 44 con il lunotto termico in Frantumi sul posto è intervenuta la polizia la giovane mamma ha spiegato ai nostri microfoni di essersi recata dai carabinieri il giorno dopo per sporgere denuncia e essersi imbattuta in altri cittadini vittime degli stessi gesti vandalici e danni delle loro auto in via Crisanzio vicende che pare si consumino ogni notte nonostante il maxi provvedimento antidegrado emanato dall'amministrazione leccese per quanto riguarda Piazza Umberto e Piazza Moro in vigore dal 7 agosto fino al 30 settembre 2024 un'ordinanza che mira garantire la pubblica sicurezza vietando anche la vendita e somministrazione di alcol dalle 20 alle 7 del mattino disposizioni che però a dire dei residenti per essere davvero efficaci dovrebbero coinvolgere altre zone dal quartiere murattiano a libertà prevedendo addirittura ronde notturne delle forze dell'ordine e in un agosto in cui quasi tutte le sere cinesche sono apparse abbassate nel centro di Bari c'è stata una cartolibreria che ha scelto di restare aperta tutta l'estate andando controcorrente dimostrando quanto la città sia piena di turisti a fare compere sono passati 20 anni da quando Giovanni Maffei porta avanti assieme a suo figlio Matteo la sua cartolibreria in corso sonnino nel quartiere Madonnella di Bari una vita di sacrifici, passione e anche evoluzioni commerciali sempre al passo con una città che si fa sempre più turistica ed è per questo che da qualche estate ormai Giovanni e Matteo hanno deciso di non abbassare le sere cinesche nel loro negozio nemmeno ad agosto rinunciando alle ferie e a riposo una scelta controcorrente e audace che pare li abbia premiati in termini di vendite padre e figlio si sono avvicendati nei turni anche nella settimana di ferragosto diventando un punto di riferimento per gli acquisti dell'ultimo minuto da parte di residenti e turisti e soprattutto per i genitori previdenti già impegnati a ordinare libri scolastici per il prossimo anno restiamo aperti appunto perché ci sono famiglie che vengono con più tranquillità a inserire gli ordini dei libri scolastici per la nuova campagna a scuola restiamo aperti anche perché c'è turismo nella città quindi c'è gente che viene ad acquistare dei regalini per i bambini abbiamo anche materiale per il mare è ormai un'abitudine per noi perché comunque riscontriamo un rientro non maggiorato però diciamo riusciamo a finire la giornata con un qualcosa un buon incasso quando andrete in ferie a questo punto? se ne parla secondo me per dicembre è stato un sacrificio lavorare ad agosto? no mai un sacrificio per tutti i bambini e per tutte le persone che ho dato la disponibilità mi hanno risposto comunque e mi fa piacere se dovesse tornare indietro rifarebbe il il libraio? sì sempre sempre a disposizione dei cittadini ora andiamo a Castellana Grotte dove ieri sera il cantautore Sergio Caputo si è esibito in un concerto con il suo trio vocale strumentale incantando Piazza Garibaldi notte stellata ieri a Castellana Grotte a suoni jazz magistralmente miscelato con il pop dal cantautore e chitarrista Sergio Caputo accompagnato dal suo trio di musicisti l'artista nel cuore di tutti per i suoi brani il Garibaldi innamorato un sabato italiano e bimba se sapessi ha incantato con la sua voce il suo charm Piazza Garibaldi gremita di cittadini e turisti il trio vocale strumentale alla base del progetto di Sergio Caputo è caratterizzato da un tale affiatamento da potersi definire telepatico capace di affrontare ogni canzone con una visione originale ed improvvisazione la magia del Sergio Caputo tour 2024 si è compiuta anche ieri a Castellana città animata per tutta l'estate da una ricchissima rassegna di eventi fino a settembre Sì Sergio Caputo inaugura Piazza d'estate che sapete noi la dedichiamo sempre al cantautorato quindi stasera facciamo un tuffo nel passato poi ci sono tante generazioni che ricordano hanno ascoltato con piacere la sua musica il suo swing e domani sera avremo Dolce Nera quindi un calendario che continua ieri sera abbiamo avuto un bel evento anche con l'orchestra di Lo Zuppone erano 25 componenti abbiamo i martedì giovedì in villa abbiamo la Saga del Pollo abbiamo la Fiera abbiamo il Festival dello Sport in Largo Porta Grande abbiamo eventi per ragazzi per giovani per anche meno giovani in villa quindi stiamo cercando di abbracciare tutte le fasce di età noi abbiamo ripeto sempre ma non mi stancherò mai di dirlo abbiamo la grande fortuna perché madre natura ci ha dotato il complesso classico le grotte di Castellana ogni cittadino deve essere fiero di sentirsi proprietario di queste grotte come lo facciamo manifestare proprio attraverso queste manifestazioni e ora andiamo a Taranto dove è stato firmato a Palazzo di Città un protocollo di intesa per regolarizzare la movida notturna e il servizio è di Angelo Ingenito nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città è stato siglato un protocollo di intesa tra il Comune di Taranto e le principali associazioni di categoria locali tra cui Casa Artigiani Casa L'Impresa Conf Artigianato Conf Commercio Conf Esercenti Conf Imprese l'iniziativa presentata alla stampa dal Vice Sindaco e Assessore dello Sviluppo Economico Gianni Azzaro mira a creare un equilibrio armonioso tra le esigenze dei cittadini e quelle degli imprenditori regolamentando le attività commerciali e di intrattenimento nelle aree cittadine più frequentate con particolare attenzione alle ore serali e notturne il protocollo rappresenta una risposta concreta all'attuale situazione in cui i livelli di rumore e la sicurezza nelle zone interessate sono spesso problematici con questo accordo l'amministrazione comunale si propone di sensibilizzare gli esercenti e coinvolgere attivamente i residenti dei quartieri più interessati come la città vecchia il borgo lama sanvito e l'isola amministrativa per garantire una convivenza serena e rispettosa un protocollo che diciamo entrerà subito in vigore e soprattutto che mira a focalizzare l'attenzione su alcuni periodi dell'anno ovvero soprattutto l'estate ma anche Pasqua e Natale che sono i periodi in cui c'è più affluenza turistica e soprattutto anche c'è un ritorno dei nostri giovani ci coordineremo insieme all'associazione di categoria con dei travoli trimestrali per trovare insieme delle sinergie le più idonee soprattutto per far sì che gli esercenti e le attività commerciali possano svolgere il proprio lavoro però nel rispetto dei limiti soprattutto relativi ai rumori all'emissione dei rumori ma nello stesso tempo anche mettano insieme soprattutto i residenti di poter vivere in maniera tranquilla e soprattutto poter andare a lavorare l'indomani mattina e ci spostiamo ora a Foggia dove amministrazione comunale e Amiun Puglia stanno installando fototrappole in punti strategici della città per contrastare comportamenti scorretti in materia di smaltimento rifiuti vediamo il servizio di Nicola Saracino una rete di fototrappole di ultima generazione grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale installate in diverse aree della città per contrastare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti e preservare il decoro urbano è l'iniziativa dell'assessorato all'ambiente del comune di Foggia e Amiun Puglia con i dispositivi posizionati in punti strategici che avranno il combito di monitorare e sanzionare comportamenti illegali in materia di smaltimento dei rifiuti queste sono sostanzialmente telecamere dotate di intelligenza artificiale questo significa che supportano la polizia locale che non dovrà guardare ore di filmato per cercare il frame del reato ma in automatico la telecamera ha fissato l'ambiente quindi ogni modifica di questo ambiente ti cattura direttamente i frame interessati e quindi i momenti multabili l'iniziativa che vedrà l'installazione di altre telecamere in altri punti della città punta a sensibilizzare la cittadinanza e a garantire un ambiente pulito e sicuro per tutti e sembra incontrare già il favore dei cittadini ci dobbiamo abituare ad essere persone civili rispettosi verso gli altri verso la comunità diciamo che da quando sono state installate la situazione sembra essere migliorata e speriamo insomma che si faccia sempre meglio per il bene comune di tutti insomma ecco questa era l'ultima notizia grazie per averci seguito vi ricordiamo l'appuntamento alle 20 con 91esimo minuto e la radio cronaca integrale su Radio Bari per seguire insieme Modena Bari buon proseguimento di serata su Tele Bari Grazie a tutti